E' fatta per Traoré, la dama Traoré rimarrà infatti in territorio inglese in Inghilterra, infatti proprio Traoré va al Fulham, arriva a parametro 0 al Fulham, a questo club calcistico inglese per eccellenza, Traoré è seguito anche dal Milan e da Roma ma alla fine la dama Traoré rimarrà in territorio inglese, ripeto di nuovo. E' stata fatta, è stata compiuta questa nuova importante svolta per lui, arriva a parametro 0, ripeto, al Fulham e diventa un giocatore di questo club calcistico inglese per eccellenza, va bene? Vi do anche un'altra informazione importante di calcio mercato, cioè che Mario Lui rinnova proprio con il Napoli, rinnoverà, è stato trovato infatti un bellissimo accordo per un prolungamento calcistico che lo legherà al club celeste per eccellenza, fino all'anno 2026, tre anni in più. Siamo a 2023 per tre anni, con un contratto di tipo triennale. Bene, rinnovo dunque anche Mario Lui, complimenti a fatta. Il video termina qua, iscrivetevi e commentate. Ciao da Narra2.